Una svolta ha preso forma in quest'ultimo mese, nella politica e nel sentimento popolare, in Italia. Si può rappresentarla anche numericamente. Lo ha fatto il sondaggio di Ipsos pubblicato ieri dal Corriere della Sera. Anzitutto colpisce il dato relativo ai partiti, perché crescono Lega e Fratelli di Italia, una svolta ha preso forma in quest'ultimo mese, nella politica e nel sentimento popolare, in Italia. Si può rappresentarla anche numericamente. Lo ha fatto il sondaggio di Ipsos pubblicato ieri dal Corriere della Sera. Anzitutto colpisce il dato relativo ai partiti, perché crescono Lega e Fratelli di Italia, così che il centrodestra ormai raggiunge il 50%. Invece crolla il PD di Letta, dal 20,9 al 19,4%, raggiunto da FDI, e cala anche il M5S, dal 16 al 15,4%. Il distacco fra centrodestra e centrosinistra dunque si colloca fra 10 e 15 punti percentuali. Questa fortissima maggioranza di centrodestra del paese è da tempo una costante, confermata anche dalle elezioni europee e regionali, ed è un fatto di cui il governo dovrà tener conto in un momento storico in cui, dopo la pandemia, si ridisegna il paese. Ora più che mai, infatti, l'esecutivo ha bisogno di avere il consenso e il sostegno del paese. Del resto non si possono fare scelte che vincolano L e Italia per anni andando contro le aspettative della maggioranza degli italiani. Ma colpisce anche il balzo dell'indice di gradimento all'operato del governo in questo ultimo mese, che passa da 56 a 64, e specialmente quello del presidente Draghi, da 58 a 66. Secondo Nando Pagnoncelli, di Ipsos, è dovuto al successo della campagna vaccinale e alle riaperture, infatti sono dimezzati, da novembre a oggi, i pessimisti rispetto alle prospettive economiche, da 66 a 36%, e sono raddoppiati gli ottimisti, dal 15 al 31%. Quello delle vaccinazioni è un grande evento sociale, nel quale ci si è riscoperti come comunità, senza divisioni, ma solidali e collaborativi. Abbiamo ritrovato, nei centri vaccinali, un senso di fraternità che avevamo dimenticato, insieme al volto amico e protettivo dello Stato, nei centri vaccinali c'è infatti il volontariato c'è l'esercito, c'è il servizio sanitario e tutto da un'idea di efficienza, di accoglienza e di solidarietà. Il concomitante crollo di contagi, ricoverati e morti trasmette la sensazione che stiamo uscendo dall'incubo, nell'ultimo mese è cresciuta del 18%, raggiungendo il 48%, la percentuale di italiani che ritengono che il peggio sia passato.